Cresce il progetto della Futsal Alghero, la squadra allenata da Fabio Cossu impegnata nelle competizioni del PGS provinciale, che sta ben figurando. Dopo aver vinto il Master Cup, i danni dell'Audax Algherese e i giallorossi hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato indoor, che ripartirà proprio nei prossimi giorni dopo la pausa per i lavori nella palestra IPIA, e hanno vinto tutte e quattro le squadre della fase a gironi della Coppa di Lega. Ma la giovane società algherese inizia anche a confrontarsi con importanti realtà isolane. Nei giorni scorsi, infatti, la squadra è andata in trasferta per un amichevole con la Futsal Ossi, allenata da Gian Piero Loriga e militante nel campionato di serie A2 nazionale. Al di là del risultato, un bel banco di prova che la Futsal Alghero, che ha l'obiettivo di misurarsi presto nelle competizioni FIGC e che nei prossimi giorni affronterà altre squadre sarde, approfitta così della sosta del campionato. Diciamo che ci siamo fatti un bel regalo, commenta l'allenatore giallorosso Fabio Cossu, in riferimento all'amichevole disputata Ossi. Ci siamo concessi il privilegio di incontrare una squadra che milita quasi nella massima serie, la Futsal Ossi. Abbiamo formato un buon gruppo di base, c'è ancora tanto da fare, ma sono sicuro che ci toglieremo da subito qualche soddisfazione importante.